Perfetto ragazzi, allora, non si vede, sono, beh sì, in realtà che sono in van e si vede benissimo, ma qua fuori c'è un rivenditore di van e camper, molto conosciuto tra l'altro. Siamo a Vicenza, siamo da Bonometti e sono qui perché, beh, il motivo è molto chiaro e l'avete già capito dal titolo. Sono qui per vedere l'etrusco 4x4 su base Ford, quindi niente, adesso andiamo e vi faccio vedere come è fatto questo etrusco su base Ford 4x4, venite con me. Eccoci qui ragazzi, abbiamo il Ford 4x4 allestito da etrusco, total black, cerchioni molto ma molto arroganti, devo dire. Si presenta così, con questo musone molto aggressivo, stile sicuramente molto più tendente al Mercedes rispetto che al Ducato. Molto anche alto, giustamente, parliamo sempre di un 4x4, ecco qui la scritta. E il dettaglio di queste luci mi piace tantissimo, ok? Su questo legno, scalino ancora classico che non mi fa impazzire. Qui troviamo la nostra ringhiera che riusciamo a chiudere in due sezioni, quindi no singola ma doppia, in questo modo qui. Poi qui troviamo il tendalino classico, ma quello, vabbè, non è una novità. Qui il bottone per aprire e chiudere lo scalino, accendere e spegnere qui invece le luci. Questa luce a me piace veramente tantissimo. Qui in ingresso, come vedete ancora praticamente tutto ricoperto dalla plastica. Qui la dinette, questo oblò, perché vi ricordo che non c'è il tetto a soffietto, quindi abbiamo la possibilità di installare gli oblò. Qui aprendo abbiamo tutto quello che è l'impianto, la centralina dell'impianto elettrico. Qui invece abbiamo questo tavolino con una prolunga che c'è anche sulla mia, ma questa invece è lunghissima. Cioè arriva veramente fino a qui praticamente. C'è la prolunga che è lunga praticamente quanto il tavolo da chiuso, quindi diventa un tavolo per due. Qui abbiamo un ripiano molto interessante, anche se non mi fa impazzire. Qui uno scaffale in cui io tengo il cibo solitamente in questa sezione. Oblò che è molto... qua non c'è niente, no, niente. Oblò molto interessante. Dalla parte opposta invece troviamo molti armadi, scaffali, chiamiamoli come volete. Qui due prese da 2,20 volt, due spinotti per la USB. E qui abbiamo questo ripiano, non male, non male devo dire. Ci metterei sicuramente la mia attrezzatura fotografica. Qui riscaldamento, acqua, acqua chiare, acque scure, grigie, verdi, rosse e blu. E qui invece abbiamo due possibilità, quindi oscurante o zanzariera, in base a quello che vogliamo. E niente, qui stessa identica cosa, però con un sistema automatico a rotella, che non mi fa impazzire, posso dirlo, siccome lo vedo abbastanza fragile come cosa rispetto al classico. Qui troviamo i due fornelli che rispetto ad Imer li fa in modo separato al lavabo. Infatti come vedete questo è il lavabo e prima c'erano i fornelli. Tra l'altro questo ripiano molto interessante, qui il classico si gira così. Non capisco cosa sia quella fessura che troviamo sulla parete, mi immagino per fare una cosa del genere, ma non capisco il fine. Se volete aiutarmi voi, scrivetelo nei commenti, perché vi giuro che non saprei a cosa potrebbe servire questa cosa. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo già visto praticamente tutto. Qua questa luce che si può spegnere, accendere sopra la cucina, molto interessante. Ripiani molto ma molto grandi, anche se il Ford in altezza chiude. Qua comunque stesso sistema, due tra l'altro sopra al letto, quindi illumina veramente bene. Due appendini, qui il bagno veramente veramente spazioso. Ah, premessa, non mi piace questa porta. Non mi piace perché se uno si alza mentre il veicolo è in moto, cosa che non bisognerebbe fare, ma succede, c'è chi lo fa, anche se vabbè, non potrebbe. Se per sbaglio perde l'equilibrio e va addosso, praticamente apre il bagno e non va bene. Preferisco quella chiusura appunto diretta. Qui invece abbiamo un appendino, un altro blocco per illuminare il bagno e se c'è puzza giustamente a aprire, non male come ragionamento. Non si può fare su un tetto a soffitto. Niente, bagno spazioso. Qui troviamo un altro ripiano. Qua c'è la luce. E niente, anche qua il lavabo puoi buttare, insomma, il doccino puoi buttarlo fuori, lavarti da fuori. Altri due ripiani, insomma, di per sé, tutte cose che abbiamo già visto, però la novità... Qua c'è il frigo, posizione insolita, perché solitamente qua si mette un frigo un po' più grande. Due oblo, illuminazione direi super valida per il letto matrimoniale dietro. Il legno mi piace, mi piace molto questo legno, anche se metterei sicuramente una moquette come ho fatto sul mio. Isolerebbe molto di più in inverno e se cadono oggetti non si rompono, soprattutto se la moquette è gommata. Comunque devo dire che il tetto di questo Ford è veramente molto, ma molto alto. Spoiler, sto facendo tutto in voiceover. Il Ford è molto, ma molto più alto rispetto a un Fiat. Siccome i due metri, due metri dieci ci si sta benissimo. Io sono uno e settantacinque, una spanna altri quindici. Insomma, due metri, due metri dieci ci si sta benissimo, quindi veramente alto. Qui abbiamo sempre il corridoio per la luce. Abbiamo già visto anche su Imer, questa cosa non è nuova. Qui tutti questi ripiani. Dovete sapere che un po' Ford in altezza chiude. Non è come... è un po' come il Mercedes. Chiude in altezza, non è come il Ducato, magari il Citroen, Jumper, eccetera, eccetera. Comunque, nel complesso, è un veicolo veramente super, che troviamo al prezzo di 77.000 euro. Che dire, secondo me è tanta roba. Avevo fatto anche un video riguardo, ma in molti mi avevano detto che i motori Ford non sono il massimo. Non pensavo, perché in molti invece, tanti altri, mi avevano detto che i motori Ford non muoiono mai. Fatemi sapere anche la vostra, che sono molto curioso. Secondo me è un veicolo che merita. Aggressivo, molto bello. Qui abbiamo, come vedete, il gemello Imer, su base Mercedes. Non 4x4, però costa almeno 90.000 euro. Che dire, ragazzi, mezzo secondo me è super. Imer, tanta tanta roba. Volevo, ero super curioso di vederlo, perché quando ero uscito, e poi anche vedendo il prezzo, sì è tanto, 77.000 euro, ma neanche troppo rispetto magari a quello che ho pagato io per questo. Perché vi ripeto che, se volessi il 4x4, io Imer dovrei puntare sul Mercedes. E parliamo di almeno 4x4, parlo, 140-150.000 euro. Lo capite che un 4x4, ovviamente non Ford, ma Mercedes, però 77.000 euro, non è poi così male. E quindi, niente, due cose. Fatemi sapere se questo mezzo e questo Vantour vi è piaciuto. Prima cosa. E seconda cosa, fatemi sapere se vi è piaciuto il veicolo, ma non solo, ma anche appunto il Vantour in sé. E' che se vi piacciono questi video in cui vi faccio vedere i mezzi da dentro, metto il voiceover e vi parlo dei veicoli in prima persona, soprattutto sulle nuove uscite, porto più video riguardanti a questo anche. Quindi Vantour completi di mezzi molto recenti, ecco. E quindi niente, fatemi sapere queste due cose e ci vediamo con un prossimo video. Ciao raga! Ciao!